Bentornati su ogni momento, io sono Marco. Oggi con noi c'è Giuseppe Scaffarelli, autore e ricercatore che ha focalizzato i suoi studi sul rapporto tra ricchezza e spiritualità. Fondatore del percorso di ricchezza vera, oggi ci parlerà appunto di denaro. Ci spiegherà che cos'è il denaro per il nostro inconscio. Io vi auguro una buona visione, un ringraziamento a Giuseppe e ci vediamo presto. Ciao! Che cos'è veramente il denaro e perché tante persone rincorrono così con insistenza il denaro? Ciao a tutti gli amici di ogni momento, da parte di Giuseppe Scaffarelli, io sono autore e ricercatore con il focus sul rapporto tra spiritualità e ricchezza. E in questo video vorrei parlarti proprio del denaro, cioè l'aspetto più materiale della ricchezza. Ovviamente quando si parla di ricchezza non si parla di denaro, non si parla sempre di denaro, sono due cose distinte. La ricchezza può essere vista sotto tantissimi aspetti. Però è molto importante comprendere le lezioni del denaro, cioè capire fondamentalmente che cos'è il denaro e capire perché di conseguenza tutti quanti lo rincorrono. Una volta che capiamo perché abbiamo finora passato la nostra vita a rincorrere il denaro e una volta che abbiamo capito veramente che cos'è in profondità il denaro, allora cambierà completamente il nostro rapporto col denaro e probabilmente sarà più semplice per noi diciamo attrarlo nella nostra vita oppure averci un miglior rapporto. Allora partiamo innanzitutto dal concetto di denaro. Che cos'è il denaro? Il denaro è una manifestazione fisica della forza lavoro. Quindi quando noi abbiamo a che fare con il denaro stiamo avendo, quando riceviamo del denaro stiamo ricevendo l'energia del lavoro di qualcuno, qualcuno che per guadagnare quel denaro e per pagarci ha dovuto lavorare, ha dovuto esprimere la propria forza di lavoro. E quindi ci ha messo la sua forza lavoro vuol dire che ha speso il suo tempo, ha speso la sua vita, quindi è un pezzo della vita di quella persona. Questo che cosa ci fa capire? Ci fa comprendere quanto sia importante la responsabilità che dobbiamo avere nei confronti del denaro sia quando lo riceviamo e sia quando lo spendiamo. Quando lo riceviamo l'importanza di comprendere, di avere questa concezione del denaro sta nel dare equanimità, cioè nel conferire almeno un valore che sia pari al denaro che riceviamo. Quindi è molto importante che da parte nostra ci sia una profonda etica nel momento in cui offriamo qualcosa a qualcuno in cambio di denaro, che questo denaro richiesto sia ripagato da quello che offriamo. Che sia, non so nel mio caso, io mi occupo di formazione ma un tempo ero avvocato, quindi comunque nel momento in cui offro la mia prestazione, che sia di coach, di formatore oppure di professionista o qualunque sia il tuo lavoro o la tua professione, è importante che tu offri un valore almeno pari a quello che stai ricevendo. E per fare questo non è soltanto una questione di valore che si offre, perché questo è un concetto molto diffuso, la questione del valore da offrire ed è anche molto importante, devi offrire valore però associato ad un altro concetto, non devi offrire un valore qualsiasi, devi offrire un valore che proviene dal tuo dono, devi scoprire qual è il tuo dono, qual è la tua, magari il tuo talento, qual è la tua frequenza profonda alla quale vibri e devi offrire quella frequenza seguendo la tua missione dell'anima. Quindi è molto importante, infatti c'è una formula di ricchezza vera che poi ti dirò magari nei prossimi video, che parte proprio dal conoscere la propria missione dell'anima e di mettere al servizio del prossimo il proprio dono nel perseguire la nostra missione dell'anima facendo questo e rimaniamo quindi nell'equanimità di cui ti parlavo all'inizio, questo concetto questa parola particolare è una parola chiave, l'equanimità, quindi offrire la nostra vibrazione profonda, la nostra missione, noi stessi, la nostra dote più profonda al servizio degli altri, quindi un'altra parola chiave poi è il servizio, ma poi magari di questo ne parliamo in un altro video. Quindi abbiamo visto la cosa importante, che cos'è il denaro, adesso vediamo perché lo rincorrono tutti quanti e mentre te lo dico ti racconterò una storia che riguarda il guru con cui ho avuto a che fare, abbiamo ancora a che fare da tanti anni con la nostra scuola di coaching energetico e degli insegnamenti di questo guru che ci ha fatto quando siamo andati a trovarlo a Bali con la scuola e vedremo che la ricerca di denaro in realtà nasconde un'altra ricerca che noi abbiamo inconsciamente, atavicamente molto più profonda della ricerca di quattro banconote o qualche spicciolo. La nostra ricerca più profonda è una ricerca di una realizzazione interiore di cui ti parlo tra pochissimo. Allora vediamo quali sono, poiché ti ho parlato di missione dell'anima, bisogna comprendere quali sono i nostri grandi quattro obiettivi della nostra vita. In realtà è un insegnamento che proviene dalla cultura induista, comunque ce l'ha insegnato il nostro guru balinese. Il nostro guru ci ha parlato di quattro obiettivi principali che ognuno ha nella nostra vita e sono il Dharma, Artha, Kama e Moksha. Questi sono i quattro termini vedici ma il significato te lo dico subito. Allora il primo di questi obiettivi è il Dharma. Il Dharma è il servire, ha a che fare con il servire il prossimo, è la buona azione. Cioè quindi noi sappiamo qual è il Dharma per esempio del marito con la moglie, quali sono i comportamenti che deve avere un marito nei confronti della moglie. Quindi nel momento in cui c'è un marito che non rispetta la moglie, che magari l'ha maltratto oppure le risponde male o qualcosa del genere, in quel momento sta uscendo dal proprio Dharma. Quindi è il giusto comportamento che inconsciamente noi sappiamo sempre qual è la cosa giusta da fare. Quindi fai la cosa giusta. Questo è il mio suggerimento più importante. E questo è il Dharma. Molto importante è rimanere sempre all'interno del Dharma, sempre per rimanere nell'ambito di quelle equanimità di cui ti ho parlato all'inizio. Quindi uno degli obiettivi della nostra vita è perseguire il nostro Dharma. Ok? Un'altra, il secondo obiettivo dei quattro e della nostra vita è Artha. Artha è, indovina un po', la ricchezza materiale. Money. I soldi sono parte del percorso spirituale di ognuno di noi. Riflettici, perché in tutta la cultura occidentale, nelle religioni, nei percorsi spirituali, c'è sempre una demonizzazione incredibile del denaro che non fa bene, che il denaro, addirittura il denaro è la causa delle guerre, il denaro è la causa di questo, della causa di quell'altro. Se non ci fosse il denaro sarebbe un mondo migliore. Niente di tutto questo, non è assolutamente così. Il denaro è solo un amplificatore. Se sei una persona che ha un ego spropositato, il denaro ti farà manifestare un ego spropositato. Se sei una persona di cuore che è al servizio degli altri, allora il denaro manifesterà questa tua essenza, questa tua parte profonda. Ok? Quindi alla fine il denaro ci aiuta tantissimo a manifestare chi siamo veramente in quel momento. Chi siamo veramente è sempre un'essenza pura. Però chi siamo in quel momento significa che noi possiamo identificarci molto fortemente con il nostro ego e in molti casi, la maggior parte dei casi è così. Ci identifichiamo fortemente con la nostra personalità, con il nostro ego e le sue manifestazioni e quindi chi ha una grossa cifra, per esempio con un forte ego, potrebbe sperperare tutti quanti i propri soldi nei modi più balordi che possiamo immaginare. Non so, andare... non lo so, spendere soldi in modo incontrollato. Invece una persona al servizio di cuore che ha una missione dell'anima, che persegue uno scopo, allora nel momento in cui riceve una grande somma di denaro la metterebbe al servizio della propria missione, quindi al servizio degli altri. Sarebbe molto diverso e quindi in questo caso il denaro è buono e cattivo. O siamo noi che siamo buoni o cattivi? Il denaro è assolutamente un'energia neutra. Siamo noi che lo rendiamo un'arma con cui possiamo ferire qualcun altro oppure lo rendiamo un qualcosa che possiamo mettere al servizio degli altri. È come un coltello. Il coltello non è buono o cattivo. Ci puoi tagliare una torta di compleanno oppure puoi ammazzarci qualcuno. Sta a te però decidere chi uso a farne. Ok? Questo è importante. E questo ti aiuta anche a comprendere meglio come la visione che hanno tutti quanti sul denaro è assolutamente influenzata dalle proprie credenze sul denaro. Infatti c'è un lavoro di deprogrammazione che andrebbe fatto, che ognuno dovrebbe fare, di centinaia e centinaia di programmi. Noi all'appuntamento con la ricchezza vera, che è un corso che facciamo ogni weekend del primo maggio ogni anno. Andiamo il secondo giorno a trasformare centinaia e centinaia di programmi. Centinaia di programmi sul denaro, sulla ricchezza, sui ricchi, il giudizio sui ricchi che sono tremendi. E quindi ARTA è parte del nostro percorso, del nostro obiettivo è la realizzazione materiale, cioè proprio avere sufficiente denaro per perseguire la nostra missione. Quindi non sottovalutare il tuo desiderio di denaro, ma adesso andremo a vedere ancora più in profondità il desiderio del denaro da cosa deriva, cioè qualcosa si nasconde dietro il denaro. Ci stiamo arrivando perché è proprio il quarto dei purusharta, si chiamano così, questi quattro obiettivi della vita. Il terzo obiettivo è Kama. Kama è quella desinenza che precede la parola Kama Sutra, no? È il desiderio. Il desiderio significa, ecco, anche questo da un certo punto di vista in certi percorsi spirituali è visto con disprezzo, no? Non dovremmo desiderare perché se desideri vuol dire che stai nell'ego. Sì, a un certo livello è vero, ma ad un altro livello noi siamo qui a fare un'esperienza terrena, noi siamo qui a manifestare i nostri desideri, cioè abbiamo dei desideri che sono come dei vasi vuoti che vanno riempiti, ok? E noi dobbiamo riempire i nostri desideri, quindi abbiamo un desiderio di qualcosa, lo dobbiamo realizzare. Ovviamente se sono desideri che sono connessi alla nostra missione dell'anima è un conto, se sono desideri connessi all'ego è un altro conto, ok? Quindi è sempre questa la distinzione. Se tu non sai qual è la tua missione dell'anima, probabilmente stai andando un pochino magari in quella direzione, perché in molti casi comunque ci si va in direzione della missione dell'anima, però poi spesso ti capita di uscire e di rientrare, insomma manca una bussola vera e propria ed è molto importante quindi comprendere la propria missione dell'anima e andare in quella direzione. Quindi il desiderio, i nostri desideri si sono allineati alla nostra missione dell'anima, quindi l'allineamento dei nostri desideri alla missione dell'anima, allora siamo sempre all'interno degli obiettivi della nostra vita. Quando invece sono desideri di tipo egoico che può essere l'ultimo iPhone oppure il vestito da 300 euro, oppure non so qualunque spesa che magari insomma più che altro non è dettata dalla nostra parte più profonda, dalla nostra essenza, ma è dettata dalla nostra mente, dalla nostra programmazione che per esempio ci fa il marketing. Il marketing è una fonte di grande programmazione, quando noi guardiamo la televisione arrivano tutta una serie di pubblicità che aprono uno squarcio nel nostro subconscio con le immagini e poi con le parole ci inseriscono una serie di programmi. Quindi se per esempio tutti i desideri che derivano da quei programmi e quindi non sono desideri puri, sono desideri dell'ego e quindi quando noi manifestiamo quei desideri dell'ego usciamo dalla nostra missione dell'anima e quindi usciamo proprio da tutto questo discorso di ricchezza che stiamo facendo. Spero che sia tutto chiaro quello che sto dicendo finora perché siamo quasi arrivati alla fine, ti sto per dire l'ultimo dei purusharta che è il moksha. Moksha è la liberazione spirituale. Tutti gli altri punti che abbiamo detto finora sono tutti quanti a supporto della nostra liberazione spirituale. Il nostro fine ultimo è la liberazione spirituale. Ma liberazione da cosa? Che vuol dire liberazione? Si sente sempre parlare di liberazione ma che vuol dire? In realtà esiste solo una prigione nella quale noi viviamo, una prigione senza sbarre. Forse hai visto il film Matrix e hai sentito parlare Morpheus di questa prigione senza sbarre. La prigione senza sbarre è la prigione della mente e chi è che è imprigionato nella mente? La nostra essenza. Quindi tutto il percorso di ricchezza vera o comunque il mio programma, il mio progetto, quello che porto avanti da anni è finalizzato a portarci a contatto con la nostra essenza profonda. Portarci a contatto con la nostra essenza profonda significa uscire dalla prigione della mente e quindi tutto questo come vedi è in linea. Quindi abbiamo visto Dharma, Artha, Kama, il desiderio e Moksha. Quindi i primi tre sono a supporto dell'ultimo. L'ultimo, la realizzazione spirituale, la liberazione spirituale è il nostro fine ultimo che perseguiamo e quindi la nostra spasmodica ricerca per il denaro che abbiamo avuto fino ad oggi non era altro che inconsciamente la nostra ricerca della realizzazione della liberazione spirituale. Quindi non sentirti in colpa se hai provato desiderio nei confronti di qualche milione di euro o comunque di denaro, qualunque sia la somma. Va bene il desiderio del denaro. L'importante, come abbiamo visto al terzo punto, l'importante è che sia un desiderio sano, non un desiderio indotto per soddisfare i nostri bisogni dell'ego, ma un desiderio di metterci al servizio della nostra essenza e della nostra missione dell'anima. E questo è quello che io ti auguro. Quindi in questo video abbiamo visto che cos'è il denaro, abbiamo visto che è energia di lavoro, abbiamo visto quali sono i quattro obiettivi della nostra vita, che sono quindi il Dharma, il giusto agire, Artha che è il denaro, Kama che è il desiderio e Moksha che è la liberazione spirituale. Io mi auguro di essere stato chiaro, però se ci fossero delle domande ti invito a scrivere dei commenti qui sotto. Anzi, anche se non avessi delle domande specifiche su quello che ti ho detto, ma se ti fa piacere soltanto dire che hai apprezzato questo video, a me fa molto piacere leggere un commento anche per capire come andare avanti con i video di ogni momento. Sto preparando una serie di video e quindi per me è molto interessante vedere che cosa gradisci tu, che sei un frequentatore del canale ogni momento. Io ti ringrazio e ti saluto, un abbraccio e ti auguro di manifestare la tua ricchezza interiore con rispetto, amore e gratitudine. Ciao!